Cristina Greco, coordinatrice della Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni. Oggi confronto con il Ministro Catalfo sulla fase attuativa ulteriore del provvedimento del reddito di cittadinanza. Sì, intanto apprezziamo molto che il Ministro ci abbia convocato in tempi rapidi. Noi avevamo bisogno come Regioni di un confronto per fare un po' lo stato dell'arte e soprattutto porre quelle che sono in questo momento le criticità, perché noi come Regioni abbiamo la preoccupazione di passare dalla prima fase dell'applicazione del reddito di cittadinanza che sicuramente è la fase che riguarda l'erogazione del beneficio economico a una fase di attivazione e quindi aumento dell'occupabilità e auspicabilmente anche dell'occupazione. E non è detto che questo processo avvenga in maniera così automatica, quindi mettere in campo tutti i correttivi e le disposizioni affinché appunto la legge possa essere applicata nella sua totalità. Avevamo preparato un documento con delle richieste ben precise, quindi un'interlocuzione unica con i Ministeri, una data in cui iniziare tutti insieme ad applicare la condizionalità, quindi in tutta Italia nello stesso momento, il che vuol dire che le sanzioni della riduzione o della sospensione del beneficio che sono previste dalla legge dovranno essere applicate in maniera omogenea sul territorio e a far data da un unico momento. La Ministra, sono state accolte tutte le nostre proposte, anzi è stato ribadito il ruolo centrale e da protagonista delle regioni e delle province autonome e abbiamo apprezzato la proposta che la Ministra ha fatto di istituire una cabina di regia in cui parteciperanno anche i comuni sulla base di una nostra sollecitazione dove si possano trattare i temi per esempio delle sedi dei centri per l'impiego e anche i temi dell'integrazione fra patto per il lavoro e patto per l'inclusione sociale nonché il tema delle ore previste per lavori di pubblica utilità, lavori utili alla collettività. Per cui passo passo ci stiamo avviando a mettere in atto anche la fase di attivazione che poi è quella che a noi regioni interessa come competenza avendo a questo punto terminato o essendo in fase di completamento della formazione dell'affiancamento dei navigator. Quindi insomma tassellino dopo tassellino mettiamo in campo la struttura per poter adempiere alle disposizioni della legge.